Abbiamo al telefono Beppe Savoldi, Beppe Gol, ciao Beppe, benvenuto a Supersport 21. Ciao Paolo, ciao Manuel. Allora, io con te parto però dall'attualità perché sicuramente tu vivi a Bergamo ed è sicuramente una situazione incredibile quella che si sta vivendo dalle tue parti. Allora vorrei che facessi un attimo, ci raccontassi quelli che sono stati gli ultimi giorni drammatici in tutta quella regione e soprattutto come vedi l'andamento dell'epidemia, Beppe? Ah, qui stiamo vivendo ancora una situazione drammatica perché stanno succedendo ancora delle cose incredibili. Io purtroppo non ho assistito direttamente ma tramite amici, conoscenti eccetera mi hanno raccontato delle tragedie, delle cose incredibili che mai potevo immaginare potessero succedere. Ecco Beppe, però parliamo anche di qualcosa di bello che ti è appartenuto, il Napoli di Beppe Savoldi. Ecco il...